Esami di Stato che prendono il via oggi ufficialmente con la prova scritta di italiano che coinvolgerà tantissimi studenti anche in Abruzzo. E allora per saperne di più ci colleghiamo subito in diretta con la nostra Marina Moretti che è a Pescara. Marina, buon pomeriggio a te. Allora, dicevamo quali sono i numeri che riguardano questo esame di Stato per il 2023 e quali le tracce, insomma, raccontaci quello che hai potuto vedere e sentire questa mattina. Sì, Anna, i numeri in parte le hai detti nei titoli, sono 10.000 circa, qualcosa in più, gli studenti abruzzesi che potevano recarsi nelle rispettive scuole e sostenere l'esame di maturità. Si presume, si spera che tutti lo abbiano fatto e chi non ha potuto magari potrà recuperare. Ma quello che mi interessava poi capire, di tutte queste tracce estremamente variopinte e numerose anche perché sono tante le possibilità, qual è quella che è stata un po' più interessante, un po' più gettonata dai ragazzi. Ho fatto varie domande, emerge che sappiamo che fra le tracce c'era Quasimodo, c'era Moravia, c'era Oriana Fallaci, c'era Piero Angela e c'era anche un articolo di una giornalista di Repubblica in merito all'incapacità che ha l'uomo moderno di attendere. L'attesa non ci appartiene più. Mandiamo una mail, vogliamo la risposta immediata. Mandiamo un WhatsApp e se vediamo che entro pochi secondi nessuno ci risponde, ci cominciamo a indisporre e a indispettire. Pensiamo malissimo della persona a cui abbiamo mandato il WhatsApp. Quindi, insomma, effettivamente è vero che non sappiamo più attendere, non abbiamo più pazienza. Certo, non dico quella che ci voleva per mandare una lettera e riceverla indietro, però magari una via di mezzo c'è. Molti hanno scelto proprio questa traccia, che è una traccia anche di estrema attualità. Di questi 10.000 studenti abruzzesi, ovviamente non li abbiamo potuti sentire tutti, abbiamo scelto una scuola, che è il Liceo Scientifico Galilei di Pescara. Abbiamo anche ascoltato il preside, fra poco vi propongo l'intervista, perché lo abbiamo sentito lì dove invece sta facendo il presidente di commissione, in un altro liceo, al Dascanio di Montesilvano, e ho sentito anche una ragazza del Dascanio. Ovviamente i presidi devono fare i presidenti di commissione altrove, non nelle loro scuole. Però qui invece ho Matteo e Federico, sono i due rappresentanti dell'istituto, quindi mi sono presa proprio il GOTA dal punto di vista studentesco. E da loro vorrei sapere intanto com'è andata, come si aspettavano queste tracce. Insomma, soddisfazione generale, un po' l'ho presa io. Sì, 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 assolutamente belle tracce. Io ho fatto da testo argomentativo tipo storiografico, quella di Oriana Fallaci. Molto bella, devo dire, come traccia. Era molto impegnativa anche perché vi costringeva a parlare anche di storia. Sì, 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 bisogna avere una conoscenza complessiva, però è giusto così, l'esame di maturità, quindi complesso. E invece tu? Io ho fatto la tipologia C, quindi quella appunto sul discorso dell'attesa, dell'uomo moderno. E in generale credo che comunque le tipologie e le tracce fossero tutte abbastanza stimolanti. E alla fine ho fatto un po' un discorso sulla storia dell'attesa, come è cambiata dal passato ad oggi. e credo che comunque sia andata bene. In generale sono abbastanza soddisfatto comunque delle prove proposte, quindi andrà bene, diciamo. Se non avessi fatto quella, la tua seconda scelta? Anche a me, come Matteo, piaceva anche la tipologia B riguardo, diciamo, il rapporto tra i potenti e la massa. Facendo un collegamento con la guerra fredda, quindi ero indice tra quelle due. Poi alla fine ho trovato un po' spunti migliori, diciamo, sulla C e sono andato per quella. Beh, è sicuramente molto interessante perché, in sostanza, come dicevi poco fa, chi fa la storia? Questa era la domanda che è sottesa al tema. Esatto, esattamente. Chi fa la storia tra le masse oppure i pochi che sono al governo. E oggettivamente è un tema nel quale bisogna districarsi bene perché è anche molto attuale con quello che succede oggi in Russia-Ucraina e in generale nel mondo. Allora, Anna, se sei d'accordo, io ti registro anche il parere di un esterno, che alla nostra sinistra, che invece i temi non gli sono piaciuti per niente, però comunque ne ha fatto uno e si spera che l'abbia fatto anche bene. Quindi, ovviamente, non è un plebiscito, voglio dire, per le tracce, però, diciamo, in generale sono abbastanza piaciuti. Se sei d'accordo, se non hai domande da fare a questi due giovani, baldi giovani, io ti propongo l'intervista al preside del liceo Galilei, Carlo Cappello, che ci ha generosamente concesso qualche minuto, loro sono impegnati nelle commissioni, e poi ascolteremo anche Maia, che è una studentessa invece della Dascanio, che è uscita fra le primissime, era neanche l'una quando è uscita, con il suo tema già fatto. Le tracce che ci sono state per i temi di italiano di oggi, molti dicono erano inattesi i temi e gli autori, secondo lei? Probabilmente sì, insomma, poi ogni anno ci sono delle ipotesi, però mi sembravano comunque delle tracce abbordabili alla portata dei ragazzi. Sono sereni, stanno scrivendo, quindi significa che erano ben preparati per affrontare questa tipologia d'esame, che sostanzialmente non è cambiata negli anni. Gli argomenti sono interessanti, c'è possibilità di tanti approfondimenti, spaziono su vari argomenti, quindi credo che ogni ragazzo sia stato messo nelle condizioni di poter affrontare serenamente la prova. Secondo lei qual è il tema, almeno per la contezza che ne ha avuto fino adesso, quello più gettonato? Stiamo vedendo che sulla tipologia B sono in tanti i ragazzi che scelgono l'analisi del testo, sono comunque argomenti che evidentemente piacciono e quindi i ragazzi si sentono sicuri. I contenuti che vengono affrontati sono abbastanza relativi, la parte importante è come li affrontano, la capacità di esposizione, i ragazzi vengono messi in condizione di parlare. Forse nella scuola italiana questo è il valore aggiunto, i ragazzi nel loro colloquio dimostrano quello che è stato il percorso. In altre realtà anche europee non c'è tutta questa attenzione verso l'esposizione orale, quindi metterli alla prova in questo modo e non puntare tanto sui contenuti quanto sulle competenze sviluppate nel percorso dei cinque anni, credo che sia molto importante e poi quando i ragazzi vanno all'università e soprattutto entrano nel mondo del lavoro la differenza si vede. Per uscire prima del luna, il giorno della prima prova, che è la prova di italiano, bisogna essere bravi, perché se no uno sta lì fino all'ultimo secondo a vedere, rivedere e rileggere. Tu sei? Miami Argiotti. E sei brava? Eh, speriamo che è andata bene. Che tema hai scelto? Ho scelto la seconda tipologia C, che trattava praticamente della situazione attuale, in quanto grazie all'utilizzo ad esempio di WhatsApp si vuole avere tutto e subito e quindi le persone non hanno più pazienza. E cosa hai scritto nel tema? Allora, io ho scritto che in realtà è vera questa cosa, ma principalmente per avere più pazienza bisognerebbe più che altro mettersi nei panni dell'altra persona, perché ad esempio se ci si trova a dover fare una fila, vuol dire che la persona sta lavorando per noi e che comunque bisogna rispettare il lavoro che fai, quindi per rispettare il lavoro bisogna sapere anche rispettare il tempo che bisogna attendere e quindi appunto bisogna prendere fiato da rincorrere la vita. Brava, allora ti promuovo io, poi vediamo come va. Qual è la tua materia preferita? Arte. Va bene, allora in bocca al lupo per i prossimi. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.